Buongiorno a tutti, io sono Michele Lazzetta e qui vediamo oggi nella presentazione sulla fonderia le operazioni per la formatura in terra. Ci assistono validamente i nostri tecnici Gabriele, bene procediamo subito, qui vedete innanzitutto il FSSR che è stato mostrato in precedenza, qui abbiamo la cosiddetta staffa e quella che sarà riempita andrà a contenere la cosiddetta metà della forma, il nostro obiettivo è realizzare questo, quindi vedete, non vedete freddo perché non viene fatta, come sapete immaginate, la colata, anche se da studente e con Gabriele abbiamo invece anni passati quando non c'è la formazione di diritti di sicurezza, forse è meglio non dire che si si può, va bene, apriamo alcuno scritto e poi vi racconteremo quando veniva fatto. Bene, quindi qui vedete il getto come viene estratto dalla forma, ok? Quindi c'è la parte, il componente e tutti gli accessori che servono per far venire bene il pezzo, in particolare la materozza dove si vede chiaramente, poi lo potete guardare da vicino, la cavità di ritino e tutto quello che è il sistema articolato, quindi faccio articolata, caricolata, 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 anche articolata, bene che sono aggiunte che vengono fatte, si intravede la linea di divisione dello stando, quindi lo andiamo a riempire in questo modo, giusto? Quindi si fa realizzare esattamente questo, quindi adesso vediamo l'equivalente del modello, che è quello che ci permette di realizzare questo pezzo, vedete, è il modello in legno, verdiciato, verdiciato per quello che abbiamo detto, per facilitare l'estrazione del modello, poi capirete bene perché, come viene fatta l'estrazione, vedete il rosso, quindi il rosso sta per alluminio, no, acciaio, questo è un pepato di acciaio, poi questo è un pepato di alluminio, quindi questo è colato di alluminio leggero, invece, quindi sarebbe previsto acciaio, e in nero vedete la parte portata di armi, quindi quante armi avremo qua, se lo stermate bene, ben due, quindi ben due saranno le armi, come vi è stato mostrato, il modello è solo pulibile in due parti, quindi, perché effettivamente abbiamo bisogno di fare combaciare, fate ben caso a questo aspetto, cioè che le due parti devono combaciare e essere separati, poi capirete bene perché, il resto vi serve poi per rispondere alla domanda al compito, su come fare il modello, come fare, no, un ciclo, un greggio di, eh, classiche domande, come modificare il pezzo perché sia volabile, quindi come avete visto qua, con le varie aggiunte, oppure dato il seguente disegno, no, come, eh, quali sono le, le fasi, le modifiche, eccetera, o disegnare il modello, disegniamo, fate un esempio del modello, benissimo, adesso si parte, andiamo a creare la prima metà, quindi per fare la prima metà abbiamo un risorio, vedete, di un elemento, altrimenti c'è la spina che sporgerebbe, non stare in pari, quindi questo risorio diventa il nostro piano di divisione, questo è il piano di divisione, che è in venta, questa è la metà che andiamo a formare, è la metà inferiore, giusto? Un motà inferiore, quindi partiamo dalla metà inferiore, quindi sul piano di divisione andiamo a collocare il pezzettino e andiamo a mettere anche tutto ciò che sarà sul piano di divisione inferiore, cosa c'è sul piano di divisione inferiore? Vedete, la metà inferiore e gli attacchi di colata, quindi andiamo a posizionare gli attacchi di colato, e questo, vedete, c'è un passante di materozza, una parte di materozza anche sul piano di divisione, quindi andiamo a mettere anche questo, perfetto, cosa riusciamo a far vedere, quindi andiamo a far vedere con questa, con questa non si è visto nulla, quindi invece con questa, no, va bene, non lo vedete lì, lo vedete, qui lo potete vedere, vedete cosa abbiamo collocato, i pezzi sì, lo vedrete poi nel video, questo video non è che si faccia per motivi artistici ovviamente, è un promemoria per voi, però devo riconoscere in un certo voglio che vengono visitati, arrivano anche commenti positivi, offese per ora no, quindi come vedete sono previsti sul modello degli elementi per poterlo comporre, no, per poterlo comporre, quindi il cast e compagnia bella. Ok, abbiamo inserito quello che è il positivo, quindi in questa fase, in questo processo che è formatura in terra, noi abbiamo una sequenza di positivo, negativo e poi si realizzerà il positivo. Aspetta un attimo, allora il positivo è, quindi in questo processo abbiamo il positivo che è un modello permanente, mentre lo stampo è transitorio, quindi processo in forma transitoria con modello permanente, modello permanente in legno, cioè lo stesso modello viene riutilizzato un certo numero di volte. Formatura in terra, quindi qua vedete la terra, d'accordo, quindi terra da fonderia, questa è terra vergine, quindi nuova, viene usata una volta sola questa per roso e poi può essere semmai riciclata come riempimento. Quindi cosa abbiamo interposto? Vedete un setaccio, quindi il setaccio cosa serve? Per eliminare i grumi, sostanzialmente, è una polvere, la parte fina cattura immediatamente l'umidità per capillarità e quindi si formano dei grumi che non aiutano a diciamo al corretto riempimento e scorrere della terra. Perfetto, quindi utilizziamo il setaccio per togliere eventuali quindi impurità, togliere i grumi e cominciamo a far cadere la terra quella di migliore qualità quella più fina, subito a contatto con la forma. Poi quando faremo una piccola pausa potrete toccarla e sentirete che questa terra si forma molto bene, perché c'è appunto la parte di silicea e poi c'è comunque il legante, quindi il legante argilloso che la rende appunto collosa, che fa sì che rimanga agglomerata, così prenda la forma che gli diamo, il stesso effetto che fa l'acqua quando facciamo il castello di sabbia sulla spiaggia. Quindi l'argilla fa da legante. Quindi cominciamo a depositare questa prima parte di terra che va in contatto con il modello e quindi prenderà la sagoma dell'oggetto. L'operatore come notate è dotato di guanti per motivi di sicurezza. Questa terra è stata riciclata molte volte perché viene poi recuperata e riusata naturalmente. Mentre quando, ripeto, le normative non erano così stringenti, gli studenti potevano vedere anche la colata, quindi c'era il forno, quindi si scalfortava il metallo a temperatura e si faceva poi effettivamente la colata. Quindi questi sono stati realizzati effettivamente nelle nostre officine, questi componenti che vedete qua. Quindi si parte a riempire, dobbiamo riempire via via tutto il... quindi sulla parte finché si va a contatto col pezzo ci interessa, vedete, avere questa particolare attenzione. Poi una volta che abbiamo preso la forma dell'oggetto, si procede forse più speditamente depositando, vedete, direttamente. Quindi ora Gabriele sta compattando, perché compattiamo la polvere? Per renderla più dura, per vedere che resista meglio. Cioè, dentro è una mestolina. Più coesa. No, è più dentro, c'è una mestolina. Quindi con la spatola, vedete, prendiamo. Faccio un selfie. Per riempire il tempo. Quindi con la spatolina, adesso andiamo a... la spatolina per cosa l'ha usata? Per... C'è la sabbia che è talmente... È talmente... Naturalmente abbiamo fatto una cosa che non si dovrebbe fare, perché questa sabbia è passata sotto la pioggia, praticamente, per venire qua in aula, no? Quindi andrebbe protetta. Quindi non ha preso solo l'umido, ha preso proprio la pioggia. E quindi è particolarmente difficile... Difficile farla passare. No, va bene così, vai. Compattiamo. Benissimo. Quindi la staffa, vedete, questa è la staffa. La staffa è dell'altezza, appena sufficiente a farci entrare il pezzo, no? per dare resistenza dovuta a quello che sarà lo stampo. Lo stampo nel quale, appunto, poi si fa la colata del metallo. Una spazzolina qui con la spatola, ci dovete. La spazzola pulisce i pori. Eh, tanto poi, perché c'erano i miei pizzici, che si diverte. C'erano i miei pizzici, che non vengono a... ...nei questi. Questo lo facciamo a me già da me qui, ma di qui là. Adesso prende... Cos'è, un setaccio più grande, preso? Sì. Adesso abbiamo preso un setaccio con le maglie più rade, eh? Quindi siamo meno preoccupati di far passare... ...di non far passare i grumi, no? Adesso dobbiamo andare soltanto a riempire. E quindi velocizziamo un po' il processo, allargando un po' le maglie. Quindi vedete setacci, setacci, a cosa servono i setacci? Setacci permettono anche di fare la granulometria della sabbia. Va bene, se ora avete visto anche dal vivo i setacci. Come si fa per sapere quanto è grande, che dimensione ha la terra, no? La polvere, eh? O si osserva, diciamo, al microscopio, si usa un programma di analisi di immagini, oppure, in maniera più pratica, si prendono setacci con maglie via via sempre più piccole e via via si separa. Prima la frazione più grande, poi più piccola, più piccola, più piccola, si pesa e si vede le percentuali delle frazioni sulle varie dimensioni. Si parla di mesh, la mesh standardizzate, le misure delle mesh, cioè mesh vuol dire rete, reticolo, eh? Quindi i retini sono mesh, hanno una dimensione, un numero, che è il numero di fili per pollice. Quindi sono numeri strani, se voi dividete il numero, questo numero ottenete quindi la spaziatura e quindi la dimensione della polvere che passa attraverso. Vedete com'è compatta già la terra, eh? Poi lo potrete toccare, verificare come prende, come facilmente prenda la forma che viene data compattandola. Cosa succede dopo che abbiamo riempito la staffa? Cosa succederà? Cosa dobbiamo fare? Provate a immaginare la fase successiva, no? Benissimo, si va a compattare. Abbiamo visto che industrialmente questo può essere fatto con dei sistemi vibranti. Qui non abbiamo una piattaforma vibrante ma possiamo, vedete, possiamo poi compattare. E dopo che abbiamo compattato, quindi abbiamo ottenuto una forma che sia sufficientemente resistente, che si fa, si andrà a ribaltare. La ribaltiamo. E sopra andiamo a costruire l'altra metà. Vedi? Oh bene, ecco arriva il nostro pestello con il quale tutto intorno andiamo a compattare. Quindi se noi misuriamo il volume della sabbia prima di compattarla abbiamo quella che si chiama densità apparente. Quindi se voi prendete una sabbia, una polvere in generale, e la spargete così com'è, quella acquisisce una sua densità, che è densità apparente. Quando la compattate invece avete la densità massimo ottenibile. La schiacciate. E quant'è la densità massimo ottenibile? Si potrà mai arrivare a uno? Se la polvere è incomprimibile, no. In questo caso non è comprimibile. Se andiamo a schiacciare la polvere, al massimo ci sarà comunque una frazione di vuoti che dipende da? La cosa dipende? La frazione di vuoti. Dalle dimensioni? No. Abbiamo detto dipende dalla forma. Abbiamo parlato dell'esempio delle palline da bowling e da tennis, vi ricordate? Quindi se noi andiamo a comprimere lo spazio che c'è tra le sperettine, a proposito di struttura cristalline, vi ricordate abbiamo parlato di palline da tennis, bowling, ping pong, se noi andiamo a comprimere le palline, lo spazio è sempre quello. La differenza tra il quadrato e il cerchio, quello spazio lì rimane sempre vuoto. Qui se abbiamo una forma diversa, una forma irregolare, invece i grani compenetra uno nell'altro e si riesce ad avere la massima densità, che comunque sarà del 60, 70, 80%, non di più. C'è comunque un 20% di aria che ci fa comodo, ci va benissimo. È uno dei pregi di questo processo perché permette lo sfogo dei gas, quindi rende appunto permeabile la forma. Cos'è la permeabilità? E' quella proprietà che misura la capacità di essere attraversati da un fluido. Qual è il fluido? In questo caso è, stiamo parlando dell'aria, il gas, quindi permeabilità, la capacità di essere attraversati dall'aria. Se dovessimo stimare il costo di queste operazioni, quindi il costo dell'operatore, moltiplicato per il tempo. Cosa ci vorrà? Mezz'ora? Costo lordo operatore? Costo lordo, non so, 40 euro, 40 euro ora? 5 mila? 5 milioni? Ipotizziamo uno stipendio di 1000 euro al mese, no? Per fare cifra tonda. 2000 lordi, lordo amministrazione, che quindi vanno considerate quelli lordi, quindi 2000 quante ore? In una settimana ci sono, diciamo, 20 giorni, quindi 2000 diviso 20 giorni lavorativi, no? 4 settimane, 5 per 4, 20 giorni lavorativi, spero sia il caldo, 20 per 8, 1600 ore, giusto? giusto? 160, eh? Ci posso stare? 8? Si tendere, ci posso stare? Quindi, se ci vuole mezz'ora, si va su 20 euro, 20 euro soltanto per la formatura, poi c'è il costo dell'energia, del materiale. Allora, siamo arrivati fino al raso, vedete, della staffa, abbiamo compattato il più possibile, adesso andiamo a levare, scusate, a rendere piatta la superficie, perché quella poi va capovolta, dobbiamo capovolgere, dobbiamo avere lo spazio bello liscio. Voilà. Schiacciando gli spigoli, dove naturalmente è più difficile sempre compattare. Voilà. Ora, vedete, hanno le maniglie, le staffe, quindi si piglia dalla maniglia per poterla girare. Se è stata compattata, rimane, appunto, rimane intera, se no si sbriciola. Già successo? Che si sbricioli girandola? No, succede male. che ne pagano. Voilà. Perfetto. Vedete come si conforma bene, ora che è liscia, si nota proprio la finitura. Quella cosa determina, no? Quanto diventa liscia la terra compattata, cosa influenza? La finitura del pezzo. Finitura del pezzo dipende da questo, quindi quando si parla di capacità del processo, questo processo ha, no? In termini di la produttività è uno dei parametri, come vedete, se ne fa, si può fare a mano, mezzo, mezz'ora, quindi due pezzi l'ora. Automatizzando, si può andare su, intorno a qualche minuto, a pezzo. Quindi produttività. Dimensioni, come vedete, ovviamente abbiamo dei vincoli dimensioni, c'è la formatura in fossa, si può fare una formatura grande come questa stanza, come dimensione minima, considerata la finitura e la precisione, ovviamente si andrà su qualche centimetro. E poi la finitura è un altro dei parametri, un altro dei parametri del processo. Voilà, ora giriamo, che meraviglia! Mostra, eh, potete mostrare la sezione? Ragazzi, no, ce la fate a mostrare, inclinarlo un attimo per mostrare la sezione. Basta da una parte, basta alzarlo un pochino da una parte, eh, vedete? Sul piano di divisione si intravedono gli elementi che avevamo detto prima, gli attacchi di colata, il dischettino è stato levato, vedete? E quello è l'altro l'altro dischettino per per la materozza. Che vanno rimessi ora, li rimettiamo, sono caduti, vanno rimessi, perché ci dobbiamo andare a far combaciare la seconda metà, l'altra metà del modello. Quindi abbiamo bisogno dei riferimenti della spina, altrimenti andiamo a creare due metà, due stampi che non si, che non combaciano. Questo dischettino va levato. Vedete? Viene levato con precisione verticale. Perché? Perché se c'è un movimento laterale andiamo a danneggiare la forma e quindi il pezzo viene difettoso di conseguenza. Ora andiamo, vedete, a copiare perfettamente l'altra metà usando la spina, fai vedere la spina anche sulla materozza. Sulla materozza? Vedete, anche la materozza ha un riferimento per potersi accoppiare. Anche qui, vedete, riferimento per andarsi accoppiare. Per la rotazione anche, c'è un incasto. Poi vedete, montiamo il resto del sistema di colata. Quindi, canale distributore abbiamo messo, vedete, facciamo vedere un pochino a piano di stituzione la sezione, vedete, sezione trapezio, vedete, fatte con forme semplici, potendole scegliere, scegliamo quelle che sono ideali da sformare. Quindi, trapezio e cono, tronco di cono. Allora, notate, gli angoli di sformo sono opposti, quindi il canale distributore si sforma di qua, nella metà, invece il canale di colata si sforma dall'altra parte. Adesso andiamo a mettere la staffa, l'altra mezza staffa. Allora, avendo tempo, ora qui andiamo a ripetere la stessa operazione anche per la seconda metà. quindi, se qualcuno vuole raccontare delle barzellette, se qualcuno vuole venire a ripire, anche quell'esercizio lì si potrebbe fare. Quell'esercizio potrebbe fare, sì. Bravo! qui andiamo a ripetere quello che è stato, avete visto già sull'altra parte. Caldo. C'è molto caldo, aprite un po' di porte, qualcuno ci apre la porta per favore, le porte. La porta, grazie. Potete aprire la porta sul fondo, grazie. C'è caldo e non abbiamo ancora fatto la colata, pensa un po'. Faccio un altro selfie. Guarda, ruotate un po' perché se no da quell'altra telecamera lavoriamo. Bene, siamo alle definiture e quindi abbiamo completato come per la prima metà il riempimento setacciando e compattando fino ad arrivare a raso e ora vediamo qualcosa che non avete visto precedentemente, cioè andiamo a fare adesso lo stampo è collocato nel verso giusto, vedete? però non è che si può colare ancora perché ci dobbiamo ancora levare ci dobbiamo levare il modello prima di tutto quindi per levarlo dobbiamo aprirlo ma cominciamo a levare il modello da qui, da questo lato qual è la prima cosa che dobbiamo mettere? Dobbiamo ancora di formare dobbiamo finire di formare il canale il sistema di colata che comprende il bacino di colata che viene aggiunto ora vedete? questo viene aggiunto dal rovescio quindi tenete presente questo fatto che si opera sia dall'interno ma anche dall'esterno per creare la forma adesso abbiamo vedete creato lo spazio per creare la forma del bacino di colata ecco il bacino di colata si è creato il suo spazio mentre spunta il cono del il cono del canale di colata adesso il sistema è completo e quindi bisogna iniziare a levare parti quindi nuovamente vogliamo levarlo senza danneggiare la forma e quindi vedete lo estraiamo in verticale perfettamente in verticale e così otteniamo quindi il foro del bacino di colata adesso diamo dei colpettini per cercare di distaccare anche il canale di colata lo rivotiamo leggermente e su poi c'è la vernice che ci aiuta per renderlo liscio e poi c'è cosa? l'angolo l'angolo di sformo angolo di sformo che è tipico attrito angolo di attrito terra terra modello verniciato ok? quindi abbiamo sformato da sopra in questo caso vedete? il resto invece lo andiamo a togliere nel piano di divisione avete capito bene? avete notato? quindi quando disegnate il canale di colata lo dovete disegnare con l'angolo in questo senso si potrebbe anche sformare anche dal piano di divisione però quale sarebbe il problema? che poi non ha la forma a stringere che fa sì che rimanga pressurizzato il il flusso che il flusso sia continuo e che vengono intrappolate bolle d'aria si fa un po' di pulizia cioè si recupera la terra inutilizzata perché poi verrà riutilizzata in seguito adesso dobbiamo aprire dobbiamo aprire la forma per levare il modello prima si alza si separa e si rovescia ci sono stati un po' di problemi di umilità e quindi i grumi sono rimasti attaccati ti posso assicurare che solo oggi è capitato non ho mai visto diciamo questo tipo di difetto precedentemente la terra era veramente molto umida però la zona diciamo che interessa è a posto non è un problema fare dei ritocchi andiamo a restaurare un po' la forma ma comunque per quello che interessa invece la parte vedrete come viene fatta vedete la materozza si è levata da sola normalmente la materozza doveva rimanere da quest'altra parte invece si è estratta da sola come pure il canale distributore si è levato da solo è stato è stato ricollocato per farvi vedere diciamo come normalmente avviene adesso stiamo restaurando la situazione per mostrare come normalmente avviene quindi vedete due piani di divisione lisci perfetti sui quali sui quali si intravedono i modelli che vanno che vanno sformati con le due metà perfettamente lisce per andare a combaciare se le due metà non sono lisce che tipo di difetto abbiamo abbiamo il metallo che esce sul piano di divisione quindi si esalta si enfatizza la presenza della linea in corrispondenza del piano di divisione che poi è quell'elemento che tradisce il processo che è stato usato come si fa a riconoscere se un pezzo è fatto diffusione perché si individua la linea quella linea che è il piano di divisione che è la parte sempre più imperfetta dello stampo ecco non abbiamo messo oggi la polvere di staccante no perché è finita se no una delle cose che si fa è mettere un po' di polvere a ricoprire una specie di talco una polvere più fina una polvere molto fina a ricoprire il modello che svolge facilita questa funzione di stacco del modello dalla terra della forma facciamo l'estrazione per vedere come viene bello perfetto il dentro e adesso si fa l'estrazione del modello e poi potete passare a vederlo il procedimento è sempre quello lo dobbiamo estrarre in direzione più possibile perpendicolare al piano di divisione la fase di estrazione è molto delicata perché tutti i danneggiamenti della forma si traducono in difetti sul pezzo se il pezzo come di solito avviene non viene lavorato non deve essere lavorato sulle superfici esterne se andiamo a danneggiare la forma di fatto otteniamo pezzi con minore peggiore qualità estetica quindi cominciamo a togliere ad esempio vedete il canale un attacco di colata via 1 via 2 via Materozza via scuotiamo via il semimodello e via l'altro semimodello questi colpettini aiutano anche a distaccare come potete immaginare questi colpettini lo spostamento di qualche decimo ci sta quindi processo ovviamente intuite la precisione del processo cioè il mio semimodello si può spostare tranquillamente di qualche decimo di millimetro quindi voilà ecco che si intuisce la precisione la finitura vedete è notevole quindi poi come potrete osservare la finitura che si può ottenere qualche micron rimasto l'ultimo elemento da togliere cosa facciamo lo chiudiamo o lo lasciamo aperto così posso venire a vedere cosa manca ora abbiamo le due metà della forma d'accordo quindi cos'è che manca bisogna inserire siete immortalati eh poi insegno quelli che parlano l'anima bene bisogna inserire l'anima ottimo allora l'anima come si produce si produce con le casse d'anima casse d'anima che sono eh qui si possono vedere quindi queste sono le casse d'anima dopo potrete vedere anche le casse d'anima forse è meglio si può stare qui quindi casse d'anima quindi che abbiamo eh le due metà vedete quindi sono sagomate esattamente come l'oggetto che va realizzato che deve essere inserito all'interno quindi queste due scusate mi fai vedere come si eh benissimo quindi le due casse d'anima si vedete hanno anche qui hanno delle spine si chiudono all'interno si mette si mette la terra anche qua si compatta e voilà e si ottiene questo è fatto con un procedimento diverso comunque quindi ovviamente non combattia però questa è fatta in un altro modo quella lì quindi comunque si ottiene vedete con l'anima ecco facciamo vedere come si colloca quindi qui di anime ne abbiamo due abbiamo detto con le relative portate allora nell'anima si vede c'è un intaglio che è l'alloggio dell'anima originale che è la piccola quando vado a posizionare l'anima devo stare attento a posizionare questo intaglio rispetto alle portate d'anima che trovano nella forma quindi c'è c'è un orientamento non è semplicemente assial simmetrica abbiamo detto che abbiamo due anime che si vanno a intersecare quindi mettiamo la prima l'altra mi si è rotta la seconda si è rotta e quindi ve la immaginate in questa posizione alla fine avrei chiuso le due foglie quello che succede a questo momento in poi il momento che vado a chiudere non lo controllo più lo so solo quando estraggo il getto va bene quanto più sono preciso a fare questa operazione quanto più il getto risulta in me colo aspetto estraggo esattamente questo via il canale di colata via la materazza e la due pezzi ok lo so i pezzi le appendici vengono segate con delle seghe segatrici a disco a catena si sega si separe vari pezzi il pezzo può essere semmai sabbiato quindi sabbiatura per pulirlo per allisciarlo un po' posso cominciare a smontare la smontiamo non la chiudiamo ok quindi una volta chiusa vedete abbiamo questi riferimenti che servono per far combaciare le due metà esattamente come nella prima parte abbiamo aperto e lo richiudiamo e poi una volta chiuso si può vedete si può colare adesso invece non si cola si rompe si rompe il tutto vedete si butta via lo rivedete nel video mezz'ora per fare due secondi per distruggere voilà notate che le staffe sono modulari vedete per cui in base all'altezza che occorre si compongono per ottenere l'altezza voluta quindi le staffe ci sono di varie altezze in base a quello che serve si utilizzano allora l'anima si fa abbiamo visto nella cassa d'anima si può fare in terra oppure si può realizzare meglio più facilmente con il processo di shell molding che vi ho spiegato sempre l'ultima volta questo processo abbiamo un diverso tipo in questo processo abbiamo un diverso tipo di terra non abbiamo la terra da fonderia ma abbiamo una sabbia per rivestita di resina sabbia per rivestita di resina che qui vi viene ora a mostrare che poi quando farete il giro potrete vedere che è contenuta in questa cassettina e questa è la cassa dove facciamo lo cellone però facciamo vedere prima l'anima che è più semplice e poi si guarda quest'altra quindi un altro modo per realizzare l'anima è appunto con sabbia pre rivestita di resina quindi l'aggregazione viene fatta per via termica quindi facciamo vedere l'anima la cassa d'anima sarebbe questa qua quindi vedete cassa d'anima di non di legno ma di metallo cioè materiale conduttivo che viene scaldato e fa quindi aggregare la sabbia pre rivestita quindi in questo modo si otterrebbe l'anima questa viene scaldata la sabbia viene cobrata all'interno io la vedo per un attimo sono riuscita si passa da questo colore a questo quando è cotta io mi accorgo all'interno la variazione sta cuocendo si sta ingiurendo alla colorazione voluta alla direzza voluta apro e sforno ho la mia anima e poi è quella lì facciamola vedere sulla cassa d'anima questa qua questa è fatta per shell molding questa qua vedete quindi sabbia pre rivestita sabbia di silice o zircone rivestita di resina fenolica quindi termoindurente e si mette nel metallo vedete queste attrezzature sono semplici tondini di ferro pezzi di metallo così spezzone così saldati insieme bene e così abbiamo mostrato come fare adesso vediamo processo alternativo pezzo stesso stesso pezzo ma fatto con un processo diverso shell molding appunto tutto di shell molding lo facciamo ora foro centrale vuol dire che prevede un'anima ma cosa manca? manca altro foro in lino quindi qui abbiamo deciso di fare quel foro lì verrà fatto poi le lavorazioni anche a macchina bene? allora quindi modifica il progetto facciamo solo uno dei due fori per semplificare il modello anche qui abbiamo forma transitoria cioè per restare il pezzo si rompe la forma ma modello permanente il modello è permanente questa volta è fatto di prima era di legno era fatto di acciaio questo qua acciaio questa è la placca modello si chiama la placca modello va bene? quindi abbiamo a realizzare adesso puoi mostrarla puoi mostrare la placca andiamo a ottenere andiamo a ottenere la forma questa con il con quella placca modello lì il modello è fatto in quella maniera quindi c'è la stessa la geometria del pezzo ricavata su una piastra di metallo quella è una delle due metà ce ne vogliono due quindi il procedimento è per aggregazione termica quindi si scalda anche qui come per l'anima la placca modello ci si spara sopra la sabbia quindi lo puoi chiudere nella cassettina noi in questo qui diciamo la versione manuale questa è la versione manuale ma può essere anche questa un po' automatizzata quindi si mette vedete la placca modello nella cassettina giro il tutto la sabbia che all'interno va sulla placca aspetto un tempo determinato all'estrazione quando riapro la placca ritrovo la placca con una cosa del genere sopra dove la parte più dura sarà l'interno e la parte diciamo meno cotta parte superiore lo ripeto due volte e tengo due gusci l'unica differenza tra due gusci sono le spine di riferimento due saranno maschi e due saranno fermi e mi saranno per accoppiare i due gusci una volta al solito per creare il foro interno adopero un'anima queste sono le due portate d'anima fatta con lo stesso sistema come avete visto prima metto un'anima fatta in sempre in sabbia chiudo il tutto lo blocco con una cassetta del genere riempita di ghiaia in modo che mi tenga fermo la forma che permetta l'evacuazione dei gas colo si brucia tutto ottengo questa di questa sabbia non recupero niente perché viene bruciata nel senso la sabbia ci rimane la resina che riveste la sabbia che viene bruciata esattamente la placca modello viene lavorata alle macchine per l'asportazione di truciolo anche la placca di legno si è lavorata per l'asportazione di truciolo si parte da blocco e si crea il negativo quindi da cosa dipende lo spessore vedete qui la forma ha uno spessore un certo spessore che dipende dalla propagazione del calore della placca all'interno della sabbia vogliamo mimare la sta rifiudendo mettiti via basta avete capito volete vederlo avete capito procedimento perché questo è un pochino più complicato forse dell'altro da capire quindi la placca è come il positivo in precedenza sulla placca viene messa come abbiamo visto ora la sabbia pre rivestita poi si scalda si scalda la placca e quella si aggrega invece prima la compattavamo ora la scaldiamo si aggrega poi si usano questi estrattori qua fargli vedere gli estrattori come funzionano quindi premi questo vedete se premiamo l'estrattore spinge facilita il distacco fargliela vedere fargliela calzare sopra il pezzettino vedete la metà che abbiamo ottenuto viene lì sopra a calcare lì sopra nel momento che apro la cassetta mi trovo in questa situazione qua ho la placca con questo qua sopra eventualmente se non è finita se non è portata a cottura ultimate diciamo la rimetto in forno nel momento che la vado a estrare per l'estrattore lo so batto su un piano 4 pernettine scano fuori mi estraggano vedete i punti di bagno lavorati è ottenuto la semi la mezza forma lo stesso si ripete sull'altra metà si uniscono e si ottiene la forma intera questo in questo caso lo vedete si cola sul piano di divisione no? eh prima dicevate cosa sono quei fori sulle staff ecco qui un caso dove si cola nel piano di divisione vedete si cola qua si cola sul piano di divisione vedete l'anima mettiamoci l'anima ecco la mia bella tanto per far vedere un'idea vedete si vede la portata d'anima vedete va a sostenere l'anima e mi crea quindi il positivo chiudo le due metà e quindi dove l'unica differenza è che le portate d'anima non sono coniche ma sono cilindriche anche perché non mi serve perché le tiro fuori sul piano di divisione quindi non c'è bisogno di fare le coniche quindi quando mettete gli angoli di sformo dovete tenere presente in che modo sformate la direzione di sformatura quello vi determina se ci vada o meno l'angolo di sformo qual è l'angolo di sformo qui? uguale a quello del modello di primo o no? uguale o diverso qui l'angolo di sformo sempre lo stesso? no, diverso lì era l'angolo terra da fonderia vernice del modello in legno qui è sabbia sabbia pre rivestita rispetto a placca metallo scaldata quindi angolo attrito è diverso quindi ci vuole un diverso angolo di sformo in questo caso zero perché quella forma è distrutta sono perfettamente sì vabbè per estrarlo dalla placca per estrarlo dalla placca questi connettini qui queste le spine di riferimento hanno quell'angolo lì come mai nel contenitore dove vanno messe le due parti del modello ci viene messa la ghiaia? abbiamo il problema di tenere unite le due metà d'accordo? non è che si incollano le avviciniamo le accoppiamo poi dobbiamo tenerle premute per contrastare la spinta metallo statica perfetto quindi quindi non possiamo mettere diciamo per concentrare non possiamo concentrare lo sforzo per essere unite con una morsa andiamo a distribuire questo sforzo su tutta altrimenti si spaccherebbe a metà quindi andiamo a distribuire diciamo la forza riempiendo mettendolo in un contenitore con della terra che va a schiacciare in maniera uniforme tutto quindi le teniamo semplicemente unite quindi quella cassettina è un modo diciamo per questo processo anche questo è un po' automatizzabile stesso concetto cioè si spara la polvere avete la figura sul libro c'è un sistema vibrante per compattarla e poi c'è la cottura e poi c'è l'estrazione con gli estrattori quindi è un po' automatizzabile quindi qui la placca modello è un processo ben più veloce dell'altro quindi ha una maggiore produttività ovviamente questa deve essere compensata dal minore costo dal maggiore scala quindi se faccio più pezzi giustifico il fatto di realizzare una placca modello una placca modello è pur sempre una lavorazione di un pezzo d'acciaio sulle macchine quindi è al suo costo quindi migliaia d'euro tra materiale e compagnia bella quindi va valutato in quel senso il processo invece di produttività ulteriormente maggiore se si fa un gradino sopra è questo qui è invece la conchiglia che vedete qua che abbiamo portato anche per spiegare i fenomeni di ossidazione dei metalli l'abbiamo apposta tenuta per un anno in uno scantinato umido per dimostrare agli studenti gli effetti del quante migliaia di euro milioni di euro ogni anno vengono spersi per ossidazione di superfici non protette da appunto trattamenti diciamo di rivestimento chimici o verniciatura quindi l'acciaio se non è protetto e se non è inossidabile che costa 5-10 volte tanto quell'altro è ovviamente soggetta a ossidazione favorita dall'umidità chiusa parentesi sull'ossidazione assolutamente non era questo l'obiettivo della presentazione la puoi portare verso il centro questa così viene ripresa anche dall'altro telecamera questa è una conchiglia quindi qua procedimento ancora più produttivo più quindi abbiamo una conchiglia in acciaio vedete c'è il pezzo da realizzare qui no pensavo fosse sul canale quindi qui il pezzo è ulteriormente modificato avete notato che lo stesso pezzo è al piano di divisione su piani diversi non so se avete fatto qualcuno poi quando fate il giro magari lo andate a vedere lo noterete meglio un pochino più là guarda perché mi date le camera poi lo potrete vedere meglio quindi qui vedete di nuovo colliamo in non so come dire diciamo in questa direzione come bene lo shell molding allora cosa abbiamo vuoi dire qualcosa Gabriele si parla la sua materia cosa serve quel pezzo abbiamo detto il pezzo che non si è mai saputo non si è mai scoperto non era della Piaggio questo c'era dato la Piaggio questo no era al cilindro Piaggio un altro abbiamo anche una conchiglia dove si fa il pistoncino Piaggio e questo forse di una lavatrice pare che sia una porta albero di una lavatrice forse allora qui ci abbiamo vedete una conchiglia in acciaio va bene quindi cosa possiamo colare in questa conchiglia beh ovviamente dipende dalla temperatura di fusione del materiale possiamo colare un metallo che fonda a temperatura più bassa della conchiglia sensibilmente più bassa perché all'aumentare della temperatura aumentano i fenomeni di diffusione di un metallo dentro l'altro quindi il metallo della conchiglia se ne va col metallo della colata cioè in pratica si corrode si erode sempre più e quindi perde la geometria e va fuori tolleranza d'accordo quindi qui si colerà per esempio se lo stampo è d'acciaio alluminio bronzo ottoni eccetera quindi qui abbiamo o altrimenti se si vuole colare acciaio si fanno gli stampi con polveri magari materiali refrattari sinterizzati eccetera vedere materiale per utensili qui abbiamo le due metà va bene quindi processo anche questo questo qui non sono stampi manuali può essere anche questo automatizzato mettendo ovviamente dei pistoni qualcosa che fa l'automazione che fa il percorso quindi apertura chiusura molto semplice cioè apertura chiusura per l'estrazione e colata colata del metallo cosa c'è da far vedere qua poi venite vi avvicinerete toccherete le superfici abbiamo benissimo allora naturalmente tutto ciò che era anime qui lo si fa con componenti metallici quindi si parla di vedete di stampo scomponibile quindi lo stampo può avere più o meno furbatine sono le anime che vanno a fare il fuoco piccolo si chiudono in questa maniera e dove si chiudono si chiudono sull'anima centrale che è questa ok quindi quando vi avvicinerete potrete osservare quindi l'anima centrale che anche questa si muove e fissa l'anima centrale è questa parte è fuoco l'anima si muove ok l'anima va su e perché l'anima si deve muovere per poter estrarre il pezzo è conica nel momento che quando vado a colare questa qui è portata a contatto della parte inferiore colo nel momento che vado a estrarlo porto verso il basso come questi anche questi sono come che angolo di sformo abbiamo qui ancora diverso angolo acciaio lega che dovremo sformare oltretutto bisogna anche tenere conto che c'è il raffreddamento e il pezzo si contrae quindi tende semmai a spingere invece queste parti qua questa parte qua del pezzo ok colare se lo trovo questa qua cilindrica perché il modo d'apertura è scoppiato in questo senso non bisogna di angoli di sformo la forma della materozza è quella classica che avete visto a tronco di cono anche in questo caso qui c'è un sistema vite vedete per aprire e chiudere a cosa serve la vite la vite è un buon sistema per dare per esercitare una notevole pressione forza per tenere chiusi due stampi poi cosa abbiamo queste leve cosa fanno adesso lo chiudiamo così vedremo cosa fanno quindi ci prepariamo per la colata dunque chiudiamo le anime avviciniamo i due semi stampi facendoli scorrere quindi ora lo stampo è chiuso quasi chiuso chiuso poi abbiamo queste leve che ci permettono di agganciarlo e diciamo ottenere un'aderenza perfetta delle due metà lo scorrimento appunto può essere aiutato con queste viti quindi azionate eventualmente dal motore elettrico che ruotando apre e chiude voilà quindi abbiamo chiuso bloccato tutto qui si va a colare l'anima viene portata su l'anima sale sale salito una cosa che in questi stampi bisogna fare è per riscaldare la forma se io ho 20 gradi sul cuore per cosa io ho 800 gradi riesce a risparcarsi e a riblocarsi il pezzo all'interno perché è un affidamento troppo rapido non mi permette poi di più di presa di solito se succede così viene preso tutto risultato questa va portata su 200 250 gradi prima che riceva il materiale fuso aspettiamo per mezzo minuto e dopo andiamo finissima di capare questo tolgo le mie anime estragono l'anima centrale e viene il pezzo ti estragono le anime altrimenti non viene via il pezzo il pezzo che esce è fatto come questa parte qua con la qui il pezzo è stato modificato vedete quando vi avvicinate noterete che la materozza è stata collocata sopra quindi l'anima va a riempire va a creare il foro interno poi quando segue la materazza diventa vuoto diventa foro passante altrimenti c'è la materozza sopra quindi vedrete qui come combacia poi c'è l'altra per vedere no quindi apertura chiusura automazione materiale conchiglie quindi gli stampi qui naturalmente c'è un problema quindi di estrazione quindi problemi di estrazione vanno sempre previsti in questo caso va prevista l'estrazione del pezzo finito quindi angoli vari eventualmente modello scomponibile eccetera bene a questo punto potete avvicinarvi così potete vedere quindi toccare senza rompere però perché quello è unico e irreproducibile il modello di shell molding potete vedere la cassa d'anima che non avete visto prima per il modello in terra e per il modello da shell molding e poi vedete la conchiglia quindi passate ordinatamente guardate le varie cose e poi prendete la via di casa grazie a tutti un saluto e ringraziamo i nostri validissimi tecnici grazie